brevemente mi presento io sono giovani profeta sono un collega di olanda lavoro a sima lei al laboratorio cultura visiva della subsi la mia formazione è quella fondamentalmente di designer ho studiato a venezia dove mi sono specializzato in comunicazione visiva e multimediale e poi da pochi mesi da febbraio di quest'anno ottenuto il mio dottorato di ricerca al pubblico tecnico di milano quindi ottenuto il mio dottorato in design presso density design è un laboratorio di ricerca che si occupa di visualizzazione dei dati ormai da circa otto anni collaboro appunto per il laboratorio cultura visiva della scuola universitaria professionale della svizzera italiana la subsi lì mi occupo di progetti di ricerca legati a principalmente al design dell'informazione e al design dell'interazione e poi sono anche docente tengo diversi corsi ormai da circa sette anni tengo dei corsi che sono basati fondamentalmente sulla rappresentazione di dati geografici quindi sostanzialmente delle mappe e di dati di tipo tabellare all'interno del corso di interaction design mi occupo anche di di collaborare con istituzioni presenti nel territorio ticinese ormai da tantissimi anni va avanti una collaborazione con l'osservatorio ambientale della svizzera italiana è un un laboratorio che che monitora con oltre mille sensori tutta una serie di parametri ambientali rilevati in ticino da da parecchi anni abbiamo anche una collaborazione con il museo cantonale di storia naturale che si trova a lugano con loro abbiamo realizzato una un'installazione interattiva in merito a ad una ricerca che era stata fatta negli ultimi tempi questo è un progetto che risale ormai al 2015 un progetto di ricerca basato sulla migrazione delle rondini e che ha visto collaborare me con altri miei colleghi per lo sviluppo di un un plotter interattivo quindi una macchina sostanzialmente che era in grado di disegnare sopra un poster prestampato una serie di dati riguardanti la migrazione delle rondini il progetto vikipedia primary school ovviamente immagino che conoscete tutti qual è il l'obiettivo finale del del progetto fondamentalmente si trattava di individuare quali erano le strategie che potessero in qualche maniera migliorare gli articoli legati al al curriculum di scuola primaria quindi scuola elementare in sudafrica il mio ruolo in particolare nell'ambito della ricerca era era duplice da una parte avevo l'obiettivo attraverso l'analisi grafica quindi attraverso la visualizzazione dei dati di di mappare qual era lo stato dell'arte degli articoli e poi dall'altra parte in qualche maniera riuscire a restituire graficamente l'impatto del del progetto vikipedia primary school sui contenuti di wikipedia sin dal principio era c'era già chiaro anche rispetto alle indicazioni di che mi aveva fornito iolanda quali sarebbero stati gli step per le fasi principali del progetto e la primissima frase si è aperta ormai parecchi anni fa nell'estate 2015 e prevedeva la mappatura iniziale del degli articoli previsti poi c'era una fase intermedia in cui verificavamo un po lo stato dell'arte dopo circa un anno di attività e poi alla fine le visualizzazioni finali in qualche maniera avrò fatto un po il sunto per capire qual era lo stato degli articoli prima e dopo l'intervento dei miei colleghi sin dal principio quindi una volta che i miei colleghi avevano avevano posto le basi sul sul progetto io mi sono trovato in una condizione in cui erano stati definiti una lista di circa 200 articoli organizzati in maniera devo dire molto dettagliata questo un grande lavoro che hanno fatto i miei colleghi organizzati in 40 categorie quindi fondamentalmente partivo da una da una lista abbastanza lunga e articolata di di articoli dal punto di vista dei dei dati che avevo a disposizione fondamentalmente avevo due grandi sorgenti da cui effettivamente ottenere dati avevo wikipedia con chiaramente le sue pagine web ecco è la la sandbox o meglio le pi offerte da dalla media vecchi quindi sin da subito mi era chiaro che potevo ottenere i dati sia leggendo sia utilizzando quello che vedevo in pagina sia utilizzando dei dati più più strutturati offerti dall'api e quindi con queste informazioni che avevo a mia disposizione c'è stato un momento di ricerca che devo dire è durato anche parecchio tempo e nei primi tempi in cui in qualche maniera dovevo definire un po quale quale sarebbero stati i parametri che andavo ad analizzare attraverso le mie il mio lavoro di analisi grafica ho fatto anche tanta ricerca rispetto al al mondo che guarda appunto gli articoli wikipedia quindi al mondo della linguistica piuttosto che al mondo dell'educazione eccetera devo dire che non ho trovato almeno a quel tempo nel 2015 parecchi articoli che si occupassero della dell'analisi degli articoli dal punto di vista automatizzato nel senso la stragrande maggioranza delle ricerche che ho trovato erano basate su una su un'analisi di articoli dal punto di vista qualitativo e quindi ovviamente questa qui era un'attività che già riguardava il lavoro dei miei colleghi io dovevo cercare di di trovare delle caratteristiche che potessero essere indagate attraverso l'uso di gli strumenti computazionali quindi facendo l'uso di dei cosiddetti big data in qualche maniera integrando dei dati ottenendo delle informazioni in maniera automatizzata per cui in definitiva sono arrivato a con il contributo dei colleghi a definire un po tre macro caratteristiche da analizzare graficamente dagli articoli la quella che abbiamo definito la trovabilità ossia in che maniera gli articoli sono connessi l'uno con l'altro il modo in cui sono questi articoli vengono redatti nel corso del tempo e poi quella che abbiamo definito la specificità ossia l'integrazione di con di risorse all'interno degli articoli che si vediamo più avanti il primissimo aspetto che analizzato è quello relativo ai link ai link all'interno della di una pagina web quindi di un articolo devo dire c'è stato un momento iniziale in cui ho dovuto acquisire parecchie competenze rispetto all'utilizzo di di script appunto automatizzati in particolare ho studiato un po più approfonditamente il linguaggio python linguaggio di programmazione che mi è servito proprio per ottenere i dati dalla dalla pi di wikipedia e poi elaborarli quindi far sì che quei dati grezzi che arrivavano da dalla piattaforma di wikimedia potessero essere poi rappresentati in forma grafica una volta ottenuti i dati di partenza ho fatto grande affidamento su uno strumento che pochi anni prima avevano prodotto i miei colleghi di density design si chiama raw graphs e questo qui è uno strumento fra l'altro ancora in uso e che che vedrà l'uscita della della versione 2.0 proprio entro quest'anno ed è uno strumento che permette di di ottenere delle primissime rappresentazioni di dati in maniera molto rapida con un'interfaccia grafica abbastanza facile da utilizzare quindi questo quello questo strumento l'ho utilizzato come un passaggio intermedio per per capire quali erano effettivamente i dati che avevo a disposizione poi in seguito una volta quindi capito quale sarebbe stato il tipo di grafico il tipo di modello visuale da utilizzare per rappresentare i dati riguardanti i link allora ho potuto utilizzare un'altra libreria javascript in modo tale da effettivamente avere una maggiore possibilità di customizzazione della rappresentazione in base a quelle che hanno le esigenze mie dei miei colleghi la stragrande maggioranza delle visualizzazioni che ho realizzato sono state fatte magari sembrerà strano ma sono state fatte dentro una pagina web appunto facendo uso di una della libreria javascript che si chiama d3js ho realizzato le rappresentazioni che erano basate sui dati che provenivano dalla dell'api di wikimedia ed erano visualizzazioni che ovviamente potevo gestire in maniera abbastanza abbastanza semplificata andando ad intervenire sul codice poi ottenendo un una modifica visuale in nel giro di pochi istanti questo tipo di visualizzazioni erano state ottenute appunto tramite un linguaggio per il web che generava un file svg quindi sostanzialmente un file di grafica vettoriale una volta ottenuti i miei risultati quindi tramite l'utilizzo di d3js ho avuto modo di scaricare il file svg e poi completare la rappresentazione quindi mettere effettivamente in pagina i miei risultati quella che vedete è una delle primissime visualizzazioni che sono state fatte questo che vedete è un fondamentalmente un poster in formata 3 che aveva lo scopo di di essere utilizzato dai miei colleghi nel momento in cui hanno organizzato le loro hackathon o meglio i loro editaton e tutti i vari momenti di condivisione con gli esperti dei vari settori una visualizzazione che si occupa di dei link in ingresso e in uscita quindi vedete le barre rivolte verso l'alto sono indicano il numero di link in ingresso rispetto a un determinato articolo le etichette con gli articoli sono riportate sono riportate da nella parte in alto ci trovano sono riportate in senso sono da legge piegando la testa verso sinistra nella parte in basso sono riportati mentre gli articoli i link in uscita purtroppo questo è un limite delle piai i link in ingresso non possono essere più di 500 questo è un limite tecnico della piattaforma per cui è stato un pochettino limitante perché non possiamo sapere effettivamente quanti sono i link per gli articoli che hanno più di 500 link in ingresso ci possiamo fare un'idea però di quali sono le tipologie infatti sempre con un lavoro coordinato con i miei colleghi abbiamo deciso di suddividere le tipologie di suddividere tutti quanti link in base alla tipologia se si tratta di link provenienti da altri articoli oppure da pagina utente categorie da template oppure da portali ma abbiamo visto in per questo progetto pochissimi articoli avevano erano stati linkati a dei portali quantomeno in questa primissima fase poi c'è stata un una pausa abbastanza ampia fra la prima e la seconda fase una pausa ampia più che altro dal mio punto di vista dal punto vista delle visualizzazioni i miei colleghi ovviamente sono andati avanti con il loro lavoro di definizione delle strategie che sarebbero servite appunto per migliorare gli articoli sono stati condotti diversi studi su quale potrebbe poteva essere la modalità migliore per migliorare scusate il gioco di parole per aumentare la qualità degli articoli dalle review da parte della community alle review da parte degli esperti e dopo di che sono stati selezionati un set di articoli che effettivamente sono serviti come come test per applicare alcune di queste strategie nel frattempo cosa che un po c'è strani di tutti durante questa fase intermedia sono successe tantissime cose dentro a quella lista che inizialmente prevedeva 170 articoli sono successe tante cose che devo dire mi hanno abbastanza mi hanno creato parecchi problemi nella nell'ambito della codifica poi dei codici degli script per generare le visualizzazioni in particolare sono cambiati molto spesso gli articoli gli articoli sono stati cambiati nel senso di cambiati di titolo oppure ancora sono stati cancellati del tutto oppure ancora sono stati aggiunti perché è stata una richiesta esplicita da parte degli degli esperti che si occupavano di quei temi e quindi questa qui diciamo una nota tecnica rispetto agli script che avevo preparato ho dovuto prevedere uno script in più che facesse la verifica se nel momento in cui ritornavo a fare le visualizzazioni se quegli articoli erano ancora disponibili e se erano disponibili qualora avessero cambiato il loro nome e quindi diciamo per ovviare a questo problema soprattutto nella fase nelle fasi successive ho realizzato per i miei colleghi una pagina web una pagina html che riportava più precisamente la lista di tutti gli articoli selezionati ed era una lista che aggiornavo di volta in volta quando sviluppavo una nuova rappresentazione quindi era era ed è ancora disponibile su una pagina di github questa pagina in modo tale che a quel tempo potesse servire come un punto di riferimento non soltanto per vedere la lista degli articoli disponibili ma come uno strumento che permette se a colpo d'occhio di vedere che cosa stava cambiando in quegli articoli vedete ci sono alcune caselle grigie verdi ecco lì è espresso con dei colori ma andiamo molto immediata quali sono le migliori oppure i problemi che stanno che stanno avendo gli articoli presi in considerazione nelle fasi successive ovviamente avevo già un dei dati di riferimento partendo appunto dal 2015 per cui come potete vedere ci sono la rappresentazione ha acquisito un livello di complessità in più sono state inserite delle barrettine questi segnetti neri che vedete questi filetti neri a ricordare qual era il livello di quelle barre all'inizio del progetto quindi come penso si possa evincere da questa rappresentazione tantissimi articoli hanno visto una un grande incremento del numero di link sia in ingresso che in uscita poi fra l'altro rispetto ai link in entrata in uscita questo da un'idea della mia collega florence sono è stato interessante vedere che se noi escludiamo tutti quanti link che provengono dai da altri articoli in realtà quelli che rimangono quindi i link che provengono dalle pagine utente dalle categorie dei template e dei portali in realtà tutti questi link si sono ridotti rispetto a come erano nello stato nello stato iniziale del progetto perché probabilmente abbiamo pensato dal momento che i articoli molti degli articoli erano erano cambiati in qualche modo forse l'utente non si riconosceva più in in quell'articolo comunque non era più frutto principale del suo intervento per cui ha deciso di togliere il link soprattutto il link in ingresso qui vedete un dettaglio in alto in corrispondenza di ogni singolo articolo abbiamo riportato dei dei segni grafici in modo tale da distinguere quali erano gli articoli che sono stati aggiunti durante la fase 2 oppure ancora in modo tale da distinguere quali erano state le strategie utilizzate per migliorare quel tipo di articolo questa come vedete è la rappresentazione finale che poi al solito era disponibile in formato stampato sotto forma di A3 anche dal punto di vista grafico avevo un modo di concentrarmi e curare meglio alcuni 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 dettagli che nella primissima fase erano solamente abuzzati avevo parecchi dati che riguardano i link non avevo soltanto dei dati di tipo quantitativo io oltre a conoscere il numero totale di link in ingresso in uscita sapevo anche precisamente quali erano i link che puntavano a quale altra pagina per cui anche parlandone con i colleghi mi è sembrato interessante riuscire in qualche modo a creare a ricreare il network degli articoli presi in considerazione dal progetto quindi attraverso un lavoro di redazione di uno script ad hoc sono riuscito ad ottenere un database fondamentalmente in cui vedevo riportato da una parte il link quindi la pagina di riferimento e dall'altra parte a cui puntava e poi ho utilizzato un software devo dire molto molto bello anche se parecchio complesso che mi ha permesso di realizzare un vero e proprio network quindi una rete di tutti gli articoli presi in considerazione dal progetto il software si chiama ghefi è un software open source che può essere scaricato da chiunque anche se ovviamente richiede un po di un po di pratica per per funzionare e per per essere esplorato in tutti i suoi aspetti questo è un tool che in termini tecnico si dice di spazializzazione ossia lui prende come punto di riferimento il data set che avete visto poco fa quindi dove c'è un elemento che punta ad un altro elemento e in base al numero di di link che ci sono fra quindi in base al numero di collegamenti che ci sono fra due pagine lui è in grado di di generare un network in cui tutti quelli che vedete tutti questi pallini neri che vedete sono i link che più sono vicini e più allora hanno dei link in comune più si allontano più probabilmente su wikipedia quelle quelle pagine non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro questa che vedete rappresentate una una primissima visualizzazione quando ancora non sono applicate effettivamente tutti quei quei parametri che servivano per ottenere la visualizzazione la visualizzazione che poi nel nella prima fase è stata è stata ottenuta e consiste in questo questo groviglio di di cerchi questo groviglio di cerchi in cui ogni cerchio corrisponde ad un articolo e come vedete alcuni articoli sono colorati con delle colorazioni particolari in questo è un'altra interessante caratteristica di ghefi ossia la possibilità di anche lì un termine tecnico di casterizzare gli articoli ossia in base a tutti gli articoli che abbiamo a disposizione è possibile fissare un parametro per cui sulla base di un certo numero di articoli che ci sono di link che ci sono in comune fra le pagine allora è possibile in qualche maniera raggruppare gli articoli in diverse aree tematiche questa è l'evoluzione della stessa rete quindi con con gli stessi parametri a circa metà del progetto come vedete in questa fase qui è già più facile riconoscere dei veri propri cluster dei veri propri gruppi di di pagine in particolare ci sono i gruppi di pagine che abbiamo identificato come i gruppi di pagine strettamente legate al sud africa quindi con la sua storia il suo editaggio la sua politica eccetera anche questa qui è stato un una sorpresa dal punto di vista del progetto perché penso si nota abbastanza bene soprattutto in questo caso di come dal dalla prima fase alla fase successiva e tutti quanti gli articoli sono stati sono stati sicuramente editati e il numero di link è cambiato ma soprattutto in ultimo abbiamo lasciato ad agosto 2017 dei tutta l'area che in particolare riguardava il sud africa e tutte quante le le energie rinnovabili o in generale i materiali che si possono ritrovare in sud africa adesso sono molto più ravvicinati l'uno con l'altra ciò vuol dire che tutte queste pagine sono più strettamente collegate fra di loro è più facile muoversi all'interno di quelle aree tematiche abbiamo anche analizzato diversi tipi altri tipi di dati in particolare questo è stato un esercizio che mi è piaciuto particolarmente in particolare siamo entrati dentro le singole pagine con gli articoli e abbiamo identificato alcune di quelle che noi abbiamo definito le features degli articoli le caratteristiche o meglio ancora tutte quelle che sono le le informazioni contenuti a supporto della della lettura e quindi della comprensione dei testi abbiamo preso in particolare le reference quindi i riferimenti le note le immagini e poi easy also inoltre poi questo è stato aggiunto in corso d'opera abbiamo abbiamo pensato che era interessante andare a vedere come gli articoli cambiavano anche in termini di numeri di issue ritrovate al suo interno in questo caso essendo più che altro una sperimentazione ho provato con un'altra modalità nuova per per ottenere i dati in questo caso ho utilizzato una libreria javascript che si chiama jquiri è una libreria in grado di entrare dentro tutte le pagine che facevano parte della nostra lista di circa 200 articoli e estrapolassero appunto la il le referenze immagini e le note le immagini easy also in particolare nel nostro caso mi interessava mappare anche qui la numerosità di queste caratteristiche e qui vedete al solito riportato da verso l'alto le caratteristiche negative sia le issue riscontrate su tutti gli articoli mentre in basso trovate tutte le caratteristiche positive quindi appunto le referenze immagini note e si also anche nel caso delle feature abbiamo pensato che era molto utile avere una rappresentazione in cui si partiva dal piccolo quindi da dagli articoli che avessero poche caratteristiche a quelle che ne avevano di più ovviamente ci siamo resi conto ma in parte ce l'aspettavamo che la maggior parte degli articoli che che riceveva che aveva maggiori caratteristiche maggiori immagini maggiori contenuti erano gli articoli più legati a personaggi abbastanza famosi e in questo caso abbiamo notato che molto spesso quantomeno negli articoli che poi hanno hanno fatto parte del degli editato hanno organizzato i miei colleghi molti di questi articoli a posto di acquisire caratteristiche le perdevano quindi si riduceva nel numero di referenze o magari il numero di immagini probabilmente succedeva una sorta di di assestamento magari in fase di produzione degli articoli venivano aggiunte dei contenuti extra che evidentemente non erano ritenuti essenziali quindi poi in una fase successiva venivano rimossi abbiamo anche analizzato le il numero di pagine viste per fare questo ci siamo basati sul sulle piai messe a disposizione già da wikipedia devo dire questo tipo di visualizzazione è stata molto interessante dal punto di vista della dell'ottenimento dei dati e della codifica della rappresentazione grafica questo è un tipo di visualizzazione che in inglese si chiama horizon chart potrebbe essere in italiano diventa la visualizzazione ad orizzonte ed è sostanzialmente una sorta di grafico ad aria in in cui vengono compresse le varie parti è come se voi aveste una una cartina che è molto alta infatti in molti casi ci sono parecchi picchi e per far sì che sia tutta quanta visibile in una porzione più piccola viene viene come piegata vengono fatte come delle scarette e poi vista come in una carta attraverso la carta velina è stata una visualizzazione appunto interessante dal punto di vista della codifica però devo dire non ha non ha non è stata particolarmente rilevante in termini di progetto noi ci aspettavamo che in qualche maniera aumentasse l'interesse del pubblico rispetto soprattutto agli articoli presi in considerazione dal dal progetto però in in realtà non è stato così rispetto alla rappresentazione globale abbiamo visto che il progetto non ha non ha avuto un grandissimo impatto in termini di di aumento di di pagine viste in ultimo per chiudere ovviamente tutto il processo di di ottenimento dei dati di elaborazione e di rappresentazione grafica è stato tutto quanto documentato è stato documentato per fondamentalmente per due motivi è stato documentato primo per per me stesso quindi per in termini di di velocità del lavoro e quindi poi di di produzione di molteplici visualizzazioni avevo bisogno di di uno strumento che che mi potesse servire per come una sorta di to do list tutte quante le operazioni da fare per passare da dei dati che provengono da wikipedia al poi ai dati che sono rappresentati in un in un poster a tre e poi soprattutto per per far sì che poi che potenzialmente chiunque sia in grado di di fare come ho fatto io quindi eventualmente proseguire anche il lavoro di di analisi grafica su sullo stesso data oppure selezionando una un'altra un altro set di articoli sono tutti disponibili tramite su una pagina su github poi immagino l'avete visto inoltre c'è anche una pagina su wikimedia con con il progetto in cui effettivamente trovate tutte quante le le rappresentazioni grafiche sviluppate in tutte e tre le fasi e poi inoltre sin dal principio ho rilasciato in open source lo scraper che che ho realizzato l'ho chiamato wikimall come dire la talpa di wikipedia in grado di scavare anche i dati un po' più nascosti ovviamente la mia formazione non è quella di un ingegnere dell'informazione né tantomeno un ingegnere software per cui è uno strumento che lì è disponibile però probabilmente non è ancora ottimizzato perfettamente perché perché possa essere riutilizzato da da chiunque nel senso c'è tanta abbastanza documentazione ma qualora occorresse io rimango ovviamente a vostra completa disposizione per darvi tutte le tutte le indicazioni su come adoperare al meglio questo strumento da questo progetto ho avuto modo di trarre un po' di conclusioni alcune conclusioni che riguardano specificatamente il mio ambito di indagine appunto il tema della visualizzazione dei dati in particolare mi sono reso conto che dal punto di vista della rappresentazione grafica le visualizzazioni che meglio hanno rappresentato l'impatto del progetto sugli articoli selezionati sono state le visualizzazioni legate ai link e alle feature, alle caratteristiche degli articoli e poi inoltre in sintesi mi sono reso conto che Wikipedia cambia molto 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 rapidamente e per questo motivo è difficile quindi questo qui è un issue penso che abbia chiunque si approcci a progetti di questo tipo il fatto che cambia rapidamente richiede un grande sforzo proprio per stare dietro ai cambiamenti rispetto a come i dati vengono messi a disposizione rispetto a come sono strutturate le pagine però in generale la cosa molto positiva che mi ha fatto piacere di questo progetto è che è possibile in qualche maniera riuscire a migliorare gli articoli o quantomeno a farli cambiare quindi a guidare in qualche maniera l'interesse della community o anche di persone che normalmente non frequentano Wikipedia sono degli esperti nel loro settore abbiamo visto che appunto tramite questo progetto è possibile si possono integrare dei nuovi contenuti su Wikipedia anche da parte di persone che non sono assolutamente legate a questo mondo probabilmente sarebbe impossibile pensare a un macro intervento su tutta quanta Wikipedia però su temi molto specifici o quantomeno contingentati si possono ottenere penso dei risultati io vi ringrazio per l'attenzione e poi ovviamente rimango qui a disposizione quando abbiate delle domande una nota giusto rispetto al nostro progetto quando abbiamo fatto il progetto Wikipedia Primary School il nostro focus era sul Sud Africa e il motivo per il quale anche era molto importante i link in entrata e i link in uscita era perché noi avevamo un grosso problema anche sulla rilevanza dei contenuti e sulla visibilità dei contenuti del Sud Africa che è un tema specifico quando si parla di arte contemporanea africana di produzione africana, di geografia anche di alcune regioni per cui avevamo proprio anche dei buchi di conoscenza e un bisogno anche di capire come collegare meglio i contenuti probabilmente nel progetto che abbiamo adesso qui in Italia c'è meno questo bisogno più o meno ci sono la maggior parte dei contenuti esistono piuttosto è interessante capire la visibilità di questi contenuti cioè quali sono i più letti più effettivamente utilizzati se sono usati questi contenuti immagino anche le controversie ci saranno dei temi tipo la storia del fascismo che potrebbe emergere non so se quali temi possono essere magari oggetto anche di insomma più problemi e capire anche ecco un'altra cosa che trovo interessante era anche questo magari anche valorizzare il contributo delle persone che sono attive su questi lavori anche per in qualche modo ringraziarle non so potrebbe essere anche questo magari un tema ma questa della controversia Giovanni però con il nostro progetto non l'avevamo fatto secondo te il numero l'avevi considerata questa cosa del numero di edit di una voce per esempio devi vedere quanto frequenti sono gli edit sì l'abbiamo adesso non l'ho inserita nelle slide però l'avevamo considerata l'avevamo considerata soprattutto nella prima fase poi purtroppo non ho avuto modo di riprenderla in quella prima fase c'è stato un modo di vedere alcune pagine che cambiavano il loro numero di byte in maniera molto molto repentina facendo pensare a una controversia solo in quella visualizzazione in quella prima visualizzazione che abbiamo realizzato poi un po' di tempo dopo mi sono reso conto che c'era un bug dovuto allo script per cui venivano ottenute dallo script soltanto le prime 500 modifiche effettuate quindi poi saltava dalla 501 in poi si potrebbe riprendere quello script ovviamente è da integrare fare delle piccole modifiche in modo tale da ovviare al problema dei 500 elementi disponibili con Wikimedia anche questo ovviamente anche se non è del tutto corretta comunque è sempre disponibile sulla pagina Wikimedia del progetto di visualizzazione è un argomento credo abbastanza nuovo non mi sembra che siano stati fatti molti lavori di visualizzazione cioè su Wikipedia in italiano sui contenuti ci sono quelle internazionali cioè ci sono progetti internazionali fatti da Wikimedia Foundation fatti da ricercatori esterni ma sul progetto specifico di Wikipedia in italiano non credo che ci sia molto no infatti non ce ne sono lo so perché ho visto parecchi di questi paper ma soprattutto manca l'aspetto di visualizzazione cioè sui paper stranieri ci si concentra tantissimo sul tentare di individuare un modo per cioè oddio più di un modo in realtà per valutare le interazioni ma si basa molto poco sulla parte grafica e vabbè l'italiano non ne parliamo proprio non è considerato anche io ho visto la maggior parte degli studi sono tutti in lingua inglese e poi soprattutto si basano su un'analisi come dicevo prima di tipo qualitativo che si può fare con un numero limitato di articoli ma nel momento in cui i numeri diventano tanti noi partivamo con una lista di 200 articoli poi visto che molti sono stati cancellati tutto quanto si è ridotto a circa 178 se non ricordo male per cui si nel nostro caso per il progetto occorreva un modo un po' più automatizzato per riuscire non ad ottenere una rappresentazione della qualità quello non ambivo però quantomeno a rappresentare quantomeno lo stato dal punto di vista quantitativo di quegli articoli e comunque in questo progetto parliamo di una cifra che sarà 1000-1500 articoli come base di dati quindi sarà anche un po' diverso come lavoro di analisi diventava per quello anche interessante usare l'analisi dei dati proprio perché riusciamo magari anche a scremare un po' gli articoli e fare anche una prima analisi anche un po' con l'accetta sempre per capire di che cosa stiamo parlando se ci sono molti issues se sono articoli giganti se ce ne sono di molto piccoli quindi era anche un po' per capire quindi un po' diciamo riprendendo il pat che abbiamo seguito per il progetto Wikipedia Premier School Sud Africa anche lì c'è stato un momento in cui appunto si partiva dalla lista di 200 articoli poi subito dopo la fase 1 lì è stato un po' più chiaro quali erano gli articoli su cui focalizzarci infatti mi ricordo è stato è stato mantenuto un set se non mi sveglio di circa 40-50 articoli su cui effettivamente si è intervenuto tutti gli altri ci servivano come diciamo come riferimento come un campione di controllo per capire se se avvenivano delle cose analoghe anche in tutti quegli altri e abbiamo visto penso di avervi mostrato anche che all'interno di quei 50 tutti gli articoli relativi al Sud Africa si sono compattati fra di loro quindi diciamo è successo qualcosa sono stati editati e diciamo anche sulla carta oppure sul web si è ottenuto una rappresentazione del progetto dell'impatto del progetto bene se non ci sono altre questioni o altre domande possiamo chiudere l'incontro io poi faccio una riunione operativa per capire se sviluppi tu o se facciamo sviluppare a qualcuno di Italia cioè di non svizzero le visualizzazioni perché secondo me non sarebbe male se anche persone che lavorano sui progetti Wikimedia cioè anche tu Luca o non so Federico insomma persone che già lavorano sui progetti vedere se questo tipo di strumenti sono una cosa utilizzabile se sono troppo complessi se sono troppo lontani se ci vuole troppo lavoro se invece può essere un tipo di di competenza abbastanza integrabile con anche cioè i lavori che già fate anche con le istituzioni culturali o anche con altri progetti eh diversi da eh da questo un'ipotesi potrebbe essere parlarne con Cristian Consonni che so aver fatto la la tesi di dottorato su una analisi qualitativa barra quantitativa di quello delle modifiche su Wikipedia e poi per la parte glam bisogna parlare con con lo staff però si si può si può fare è un è un tool che sicuramente può aiutare tantissimo vedo che la parte grafica quando fai vedere le cose fighe costruite fuori dalla comunità la gente spalanca gli occhi grazie eh probabilmente io già immagino eh quel codice lese eh eh probabilmente richiede sicuramente un tanto ottimizzazione eh soprattutto alla luce del fatto che eh nel nel vostro progetto gli articoli siano molto di più rispetto ai nostri duecento di partenza eh ma ma molto probabilmente comunque si si può cioè qualcosa sicuramente si si può riutilizzare soprattutto per quanto riguarda la parte di visualizzazione ormai con eh eventualmente con Yolanda abbiamo acquisito abbastanza esperienza su come eh mappare eh dati di questo tipo per cui io se volete rimango a disposizione per per seguirvi eventualmente nella nella decodifica di quello che io ho scritto nel nel nello scrivere ma anche anzi in particolare su per darvi qualche indicazione rispetto a come ehm rappresentare appunto in forma grafica i dati ottenuti penso forse un po' come per il progetto Wikipedia primary school Sudafrica adesso faccio la distinzione eh che lì bisognerà definire più precisamente quali sono le le caratteristiche da indagare così come abbiamo fatto per per il nostro progetto in modo tale da andare mirati e cercare qualcosa nello specifico quindi un po' come si fa per questi progetti di visualizzazione porsi una domanda di ricerca e trovare precisamente qual è il dataset o magari l'aggregazione di dataset che possa rispondere a quella domanda Bene grazie tantissimo Giovanni grazie a tutti anche per per la presenza ci ci rivediamo per chi riesce per il lavoro sulla valutazione degli articoli mercoledì prossimo 27 e Giovanni noi ci sentiamo poi per capire anche come andare avanti con questo progetto volentieri volentierissimo ciao a tutti allora arrivederci ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti